Buon pomeriggio a tutti. Io sono Vincenzo Brullo, un socio di Forte Architetti. Noi siamo una realtà che nasce in Sicilia, a Catania, è lì il nostro quartier generale dove sviluppiamo e creiamo i progetti e dal 2014 abbiamo una sede a Cape Town in Sudafrica. Qui un nostro socio, Roberto Forte, che gestisce i progetti esteri. Dal 2019 abbiamo anche uno studio a Milano, in questo momento abbiamo lavori attivi in Italia, in Sudafrica, in Nigeria e anche in altri passi del mondo. Oggi parliamo di Arcadia. Arcadia è un progetto residenziale che è stato il nostro primo progetto in Sudafrica, nato fortuitamente da uno sviluppatore che aveva già un progetto, un progetto di cui non era soddisfatto. Per una coincidenza fortuita ci siamo incontrati, ci ha dato due settimane di tempo per sviluppare un'idea che potesse essere migliore, innovativa rispetto a quella che aveva già. E così è stato. Il suo brief iniziale è stato molto chiaro sin da subito. Lui voleva un landmark per questa parte della città, un edificio che si caratterizzasse e si differenziasse da tutti gli altri. Lui ci ha chiesto cinque unità uniche, che in realtà sono una sopra l'altra. Ma non ci ha chiesto di fare una palazzina. Ci ha chiesto di attenzionare la vista. Da qui è possibile vedere una vista dell'oceano molto bella, Robben Island e tutta la costa di Città del Capo che è veramente bella. E di fare molta attenzione agli spazi esterni. loro vivono all'esterno come un'estensione dell'interno e per loro non c'è quasi un filtro che li collega. Non da meno per una questione di impegno per noi è stata l'esigenza di creare un parking. Sono quattro posti auto per unità e tutto questo non doveva essere visibile da nessuna parte. Faccio una piccola premessa del luogo. Ci troviamo a Città del Capo. Città del Capo è la seconda città più popolosa del Sud Africa. L'edificio si trova a Fresney. Fresney è uno dei quartieri più vivi della città e Arcadia Rod è proprio il cuore pulsante di questa realtà. Questi sono i primi schizzi congettuali che partono proprio da quelli che erano i briefi, da quelli che erano i punti principali che il cliente ci ha chiesto. E questa è la vista su Arcadia Rod, che è la strada principale, dal quale non si percepisce questo come se fosse un edificio di più appartamenti, ma il nostro intento dichiarato era quello di farlo sembrare come un edificio unico. da un carattere dinamico e con tutta una serie di giochi, diciamo, tra materiali, aggetti, che dasse una visione nuova di edificio. Invece il retro, questa è la vista opposta a quella che abbiamo visto, non è un retro, perché qui la maggior parte della vita viene vissuta, sono le terrazze che affacciano sulla vista e sull'oceano ed è la parte più pulsante di tutto l'edificio. Ogni appartamento ha la sua piscina, una piccola martini pool, dei giardini e questo è il cuore proprio del progetto. L'edificio doveva risolvere tutta una serie di problemi di inserimento in un contesto, distanze o regole e risolverlo in una questione altimetrica molto importante, ma alla fine il risultato finale è di un'integrazione e quasi di una non visibilità dell'edificio mitigato. Dal tetto e dalla copertura si intravede il senso di tutto il progetto, ogni piano arretra per dar spazio al piano sottostante in modo tale che ogni piano abbia la possibilità di avere un affaccio e di avere il sole diretto, di avere una parte di ombreggiamento e tra privacy e vista si gioca tutta la logica del piano esterno. Ogni appartamento, ricordo, sono cinque appartamenti, ogni appartamento è unico e disegnato su misura e rispecchia appunto questa logica di spazi aperti interni dove vivere, di spazi esterni. Questo invece è il quarto piano, è l'appartamento più importante, tra interno e esterno sono circa 900 metri quadrati. L'equilibrio tra gli spazi interni e gli spazi esterni, ora ve lo vedremo in una slide apposta perché sono stati studiati e bilanciati bene gli spazi di convivio interni che si uniscono agli spazi di convivio esterni in un rapporto diretto e questa è una delle immagini più, secondo noi, più caratteristiche che fanno capire la dinamicità di questo spazio. Come dicevo prima, lo spazio è ben bilanciato tra interno e esterno, tra funzioni principali e funzioni primarie. E questo è l'analisi del quarto piano. Una particolare attenzione sono stati gli aggetti e gli sguinci che sono stati studiati in modo da permettere di avere una massima visione dall'interno, di permettere alla luce del sole di entrare il più possibile dentro gli appartamenti, ma permette anche da dentro di non avere l'impressione che al di sopra ci sono altri appartamenti, ma si occupa di una sensazione di leggerezza. Gli appartamenti e le piante non sono mai squadrati e sono studiati per ottimizzare la vista, la luce e il rapporto interno-esterno. Uno dei migliori complimenti che abbiamo ricevuto è da chi questo spazio oggi lo vive e ci ha ringraziato perché cambiando le stagioni, cambiando le ore, cambiando il set, ogni giorno scopre degli angoli di casa che non aveva ancora notato. Come avevo detto prima, nel 2020 e nel 2021 ci hanno visto vincere il premio come African Property Awards, come best architecture nelle residenze in Africa. Ora scorro delle immagini, sono delle immagini esterne, poi ci saranno anche degli interni. Ecco, questa è una vista sull'oceano. Ecco, questa è una vista sull'oceano. Buongiorno, grazie. Grazie.